Buongiorno popolo di Youtube, io sono sempre qui per dimostrare la situazione dei paesi settennei, come si sta verificando per la spazzatura qui a San Pietro. Premetto che non sono un giornalista, non è che mi sto a esprimere come un giornalista, però come il cittadino che pago le cartelle sattoriali per la spazzatura mi sento in obbligo di fare vedere quello che sta succedendo. Io ho messo questi video che sono dei tre paesi a campione, i paesi interessati sono 18, tutti quelli che gestisce il lavato se metto, Catania 2, è fatto per trattare il pagamento dei stipendi dei operatori ecologici, ma è una cosa che si verifica ogni mese, per quattro anni già, o danno qualche acconto e cercano di farlo. Ora i dipendenti sono già stufi di questa situazione, le cartelle se le fanno pagare, i sindici se ne fottono tutti, tutti i sindici di questi paesi. ripeto, questo è sempre San Pietro Clarenza, provincia di Catania, qui siamo in una situazione molto, molto, molto critica, popolo di Youtube, io con questa immagine finisco di questa carallata di immondizia. Buongiorno a tutti.